Papa Francesco ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Iosef Kabila. Durante i cordiali colloqui, riferisce la Sala Stampa Vaticana, sono state evocate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica del Congo, con particolare riferimento all'importante apporto della Chiesa Cattolica alla vita della nazione con le sue istituzioni di carattere educativo, sociale e sanitario, nonché per lo sviluppo e la riduzione della povertà. In tale contesto è stata espressa reciproca soddisfazione per la firma dell'accordo quadro tra la Santa Sede e lo Stato avvenuta il 20 maggio scorso. Particolare attenzione è stata prestata alle gravi sfide poste dall'attuale situazione politica e ai recenti scontri verificatesi nella capitale del Paese africano. È stata sottolineata l'importanza della collaborazione tra gli attori politici e rappresentanti della società civile e delle comunità religiose in favore del bene comune attraverso un dialogo rispettoso e inclusivo per la stabilità e la pace del Paese. Infine ci si è soffermati sulle persistenti violenze che subisce la popolazione nell'est del Paese, sull'urgenza di una cooperazione a livello nazionale e internazionale per prestare l'assistenza necessaria di ristabilire la convivenza civile.